Salve a tutti ragazzi! Oggi siamo qui tornati nel video post Bari Avellino terminata 2 reti a 1 in favore dei Biancorossi che così si rialzano dopo le sconfitte di Crotone e doppio pareggio 0-0 con Vicenza e Pescara Ed è infatti dal lontano 6 settembre che non vincevamo, non vincevamo comunque davanti al nostro pubblico ovvero al San Nicola arrivava lo Spezia e noi vincevamo 4-3 con una grandissima impresa targata De Luca Maniero che in tandem avevano segnato due gol entrambi Che dire, termina 2-1 la partita più sentita da entrambe le squadre perché tra Avellinesi e Baresi non scorre un buon sangue Davanti a 23.000 spettatori, 22.000 baresi contro 1000 avellinesi che nonostante comunque siano una squadra che ha sempre comunque navigato tra categorie inferiori serie B, serie C e serie D Ha sempre comunque un ottimo seguito, non sono i 1000 gli avellinesi che con la loro sciarpata bianco-verde colorano il settore ospiti del San Nicola Partita, partita vibrante, il Bari che inizia subito schiacciando l'Avellino, infatti alla prima incomprensione Zito Frattali Arriva un grande e preciso cross di De Luca che trova Defendi che controlla e poi supera agevolmente entrambi i due giocatori dell'Avellino portando il vantaggio al Bari Esultanza molto simpatica, Defendi si mette sul cartellone pubblicitario così e aspetta l'arrivo degli altri compagni che lo uccidono per l'esultanza perché li saltano completamente addosso Esplode il San Nicola ma è presto per festeggiare perché l'Avellino non muore mai, è una squadra che è comunque molto forte E alla prima occasione buona dopo aver spinto per i successivi 10 minuti trova un gol Con un traversone di Zito lisciato da trotta arriva Roberto Insigne che beffa guarna che è abbastanza indeciso Praticamente tocca il pallone prima che venga spedito in fondo al sacco Poi vabbè, solita esultanza dell'Avellinese che fa il polletto del Bari ma non ci importa perché alla fine chi ha vinto ha vinto Quindi risultate polemiche a parte e il risultato va sul campo Quindi termina il primo tempo, 1-1 sembra la settimana degli insigni Aveva segnato Lorenzo, ora segna Roberto Ma alla fine a trionfare è il Bari Alla fine infatti dopo un secondo tempo che si era aperto in maniera abbastanza noiosa Ovvero le due squadre si stavano studiando per cercare appunto di concludere a rete prima dell'altra L'una prima dell'altra, alla fine entra Rosina per Sansone E lo stesso Rosina in buca con un grandissimo diagonale De Luca che si presenta tu per tu col portiere E beffa frattali facendo esplodere la contentezza del San Nicola Voi capirete che dopo praticamente il gol del Bari Il Bari si chiude in difesa e parte l'Avellino Il monologo Avellino però non trova sbocchi A parte qualche tiro molto debole Molto debole all'indirizzo della porta di difesa da guarna Nient'altro Diciamo Tesserle prova tutte Entra il fisico Mokulu anche Fa uscire Trotta Entra appunto Mokulu E quindi tenta appunto Di pescare dalla sua panchina il gioglio offensivo Che avrebbe potuto portare la partita sul 2-2 A questo Avellino si sente la mancanza di Castaldo Si sente quel bomber di riferimento che manca Perché nonostante Castaldo Diciamo sia stato squalificato L'Avellino fino a questo momento Ha comunque delle ottime alternative A Mokulu A Trotta Allo stesso Roberto Insigne Che non è proprio una punta Però si sente la mancanza del bomber Come noi non abbiamo ancora un bomber determinato Perché al centro dell'attacco Maniero sta stentando particolarmente È utile per la manovra appunto d'attacco Per perdere tempo Poiché negli ultimi minuti di recupero È riuscito comunque a guadagnarsi falli laterali multipli Lui e Sabelli hanno fatto perdere praticamente Due dei quattro minuti di recupero Per poi però sbagliare Sul disimpegno errato della difesa dell'Avellino Il gol del 3-1 Perché si presenta di solo avanti al portiere E tira sul palo Tira sul palo Quindi il conto dei palli arriva a 1 per il Bari E poi a 1 colpito da Dall'Avellino nel primo tempo Finisce Quindi dopo quattro minuti di sofferenza Finisce 2-1 L'Avellino A Bari Non vince mai Non vince mai Non vincete mai Quindi L'Avellino A Bari non vince mai Poi quando andremo ad Avellino Si vedrà Perché Avellino è un clima È una Diciamo è una piazza molto ostica Per il Bari Come Bari è una piazza molto ostica Per l'Avellino Detto questo ragazzi Vi saluto e che dire Sono gasatissimo Ci portiamo 8 punti Andiamo Superiamo il Vicenza Siamo ottavi Quindi siamo in zona playoff Bisogna dare continuità ai risultati Anche perché abbiamo Latina e Lanciano Che non sono squadre fortissime Sono alla portata Sono abbordabili E noi ci stiamo riprendendo Grande Bari Grande ragazzi Riprendiamoci così Un saluto Bianco rosso da Silverala Bella ragazzi Forza Bari